Finalmente è arrivata la DSL, è da parecchio tempo che l'aspettavamo, l'assessore Raimondi che segue le energie e reti in Regione Lombardia ce l'aveva promesso già dal mese di giugno dell'anno scorso che entro fine anno anche nei nostri paesi dell'Alta Valle sarebbe arrivata la DSL e adesso finalmente possiamo dire che questa promessa è stata mantenuta. Penso che solo con l'impegno della Regione poteva realizzarsi questo perché nelle nostre aree a bassa densità e come dicono il fallimento di mercato solo la Regione poteva contribuire a fare in modo che arrivasse questa linea DSL nei nostri paesi. Penso che è veramente un bel risultato, adesso cominceremo a viaggiare velocemente e questo risponde sicuramente ai bisogni della nostra gente, degli studenti, delle attività, insomma di tutti quelli che ormai penso che non possono più fare a meno di internet. E l'amministrazione comunale potrebbe anche approfittare di questa situazione per mettere a disposizione dei cittadini anche una connessione wireless? Ma veramente sì, effettivamente ci stavamo pensando anche con l'assessore Paganessi di realizzare questo. Adesso dovremo chiaramente sentire i tecnici come è fattibile, ma anche dare questa possibilità nella zona della piazza. Vedremo poi di trovare gli spazi adatti, insomma. Penso che sicuramente verrà fatto. Magari non in tempi brevi, però era nei nostri progetti, insomma. Ok. 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 Grazie a tutti